Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video, sono Andropopo09 Rega, oggi una cosa che volevo portare anche da un po' Oggi, rega, porteremo tutti i thriller dalla stagione 1 al capitolo 2 stagione 2 penso dal video Sì, capitolo 2 stagione 2 Niente, rega, vorrei avvisarvi questo Intanto, rega, buona visione Intanto farò anche io la reazione Matrix, rega, la stagione 1, oddio Non ho mai visto il trailer della stagione 1, ragazzi Vediamo Oh, la vecchia mappa Il vecchio rumore della R The Battle is B Il Bouncer ce l'ha già, è vero Oh, la trappola elettrica Rega, chi si ricorda della trappola elettrica scriva sotto il commento di questo video Hashtag io me lo ricordo, ma do, rega, era bellissimo Il semi-automatico Oh, ecco No, rega, mamma mia Quest'arma era l'unica mitraglietta in gioco, mi sembra che c'era Era l'unica mitraglietta in gioco, se no c'era allora la tattica No, la tattica l'hanno aggiunta nella stagione 3 Poi la mitraglietta silenziata non so se c'era già dall'inizio di Fortnite Rega, chi se lo ricorda scriveva sotto il commento di questo video Come prima, io me lo ricordo Addirittura che giocata, rega Lancia granate, quanto è la forte Rega, guarda il trailer della stagione 1 Ne abbiamo ancora... No, no, 11 da guardare Il pass battaglia della stagione 2, mamma mia Sì, non me ne frega Io voglio vedere il trailer Oh Ah no, questo è stagione 3, è vero? La ruggine, rega Quella skin è bellissima Allora, rega Abbiamo scoperto che nella stagione 3 La mitraglietta silenziata, quindi Rega, il trailer che avevo fatto vedere nel video di prima Mamma mia, non me lo dimentico mai Il trailer della stagione 4, rega Quattro Bedines Questa S*****a Ha lo snorbino per sopravvivere Quello lì è carbon Season 4, mamma mia Per me la season 4 è stata una delle più belle Il trailer della stagione 5, non me lo ricordo qual'era Ah sì, era quello del Rift Era quello del Rift Madonna Thompson No, mi ha rubato il lama Rega, aspetta No, rega, fatemelo rivedere Fatemelo rivedere Ma quindi scompare il lama Ma questo vanno E muore Mad mia Ma? California Il deserto della California Il go-kart E la schinghiala del E infatti Ecco, adesso lo introduce nella mappa Season 5 World Collide Non ho capito quale significa Però vabbè Andiamo avanti Il trailer della stagione 6 L'ha fatto da Dio, rega Si chiama cosa succede lui Niente Il cubo, rega, alla fine Se non sbaglio È rimasto Dalla stagione 6 Poi Fino alla stagione 9 Non c'era La stagione 10 Poi Se non sbaglio Ritornò L'isola volante Se non sbaglio Erano bloccati In un loop temporale Come Nel fumetto di Thor Della stagione 3 C'è ancora il cubo Mamma mia Che musica Non c'è tanta Il trailer della stagione 10 Non l'ho mai visto io Volevo proprio vedere qual è Crack Shop Sheets Donuto Cos'è Rega L'ho visto Lo visto solo io Rega No, 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 no Non l'ho visto Solo io Rega L'ho visto solo Aspettate 32 Esatto guardate regà quel coso viola il cubo ma what e quel regalo viola questo non posso indicarvelo cavolo c'è un regalo di viola che è il cubo no way il llama non mi ricorda l'iceberg riga l'iceberg è vero che si poteva vedere ancora dalla stagione 6 l'elfo minty poiché ritorna i pupazzi di neve quanto era un fighissimo sti skin gli aerei è vero che gli aerei li hanno giunti nella stagione 7 andiamo avanti regà col prossimo trailer stagione 8 me lo ricordo perfetta regà questo ma è il kraken era il kraken regà regà questo bene non c'è un kraken si regà guardate in nell'angolo a sinistra è il kraken si 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 è un kraken il fanteria è vero che era uscito quella stagione poi qua vabbè abbiamo il mondo degli acciai il grinch poi ora se non sbaglio si ritrovano tutti e tre si sono 8 mi sono 8 poi mi è piaciuto un po' dai non era neanche male però la stagione che per me è durata di più era proprio la stagione 9 questa con la bananita troppo ignorante che scappa a me mi piace la scena quando giorni si guardava nella banana per non c'è niente da mangiare non c'è niente da mangiare poi guarda la banana malissimo e mi viene da dire no povera banana Povera banana. Povera banana. Potevo risparmiarla. Il futuro è tuo. Season 9, rega. Voglio vedere il trailer della stagione 10 che non l'ho mai visto. Sono proprio curioso di vedere qual era. Non me lo ricordo. Questo! È vero! Il razzo, rega! Il razzo della stagione 5, chi se lo ricorda? La mitraglietta tattica leggendaria. Che l'hanno aggiunto prima della fine della stagione 10. Ah, la correglie del trailer stagione 6. La farfalla! La farfalla! Le fumone. Il brutto. La banana. Adesso lo guarda malissimo. Sì, sono 10 out of time. Mamma mia, rega. Il capitolo 2. Ah, la vecchia... Quanto mi manca. Quanto mi manca. Queste almeno non sono default. Sono fatte più bene. Un po' sinistro, guarda dai. Lui, chi se ne frega. Mangiamo. Ho fame. Il bug... Il bug... Il bug... Il bug... Il bug... Stavo dicendo, rega, il bus battaglia Seriamente E poi, rega, potevi direttamente giocare Il capitolo 2, rega, era bellissimo Era bellissimo Era bellissimo, rega, questo capitolo Lo adoravo io Oh Fortissima La bananita, ignorantissima Non manca mai Quello è vero, c'è la Deadpool Sto stagione Ma dai, chi se ne crepa Il capitolo ci sono ancora No È vero sto skin Mioscolo E niente, rega Spero che questo bel video vi sia piaciuto Lasciate ovviamente un bel like E iscrivetevi al canale Bella